Ciao ragazzi bentornati, ci eravamo lasciati l'ultima volta con questo Meizu Note 9 beh l'ho provato per praticamente più di 3 settimane e alla fine di queste 3 settimane mi sono chiesto cosa posso provare di un pochino più classico, più sobrio per spezzare un pochino beh qualche settimana fa ci eravamo lasciati con il video del Galaxy A50 mi era piaciuto alla fine come telefono quella A50 seppur non lo reputavo perfetto Best Buy ma comunque aveva davvero molte cose carine, più che altro ultimamente ha avuto anche un bel calo di prezzo è diventato ancora molto più interessante però per l'appunto non era perfetto, c'era qualcosa che si poteva ancora sistemare beh ho visto questo Galaxy A70 e ho detto perché no, perché non provarlo potrebbe essere lui la soluzione a quei piccoli difettini della A50 e beh vi dico che in effetti un pochino ci ho preso perché comunque lui è davvero un terminale molto molto carino forse con un listino leggermente troppo alto ma Street Price è accaduto davvero già di molto io praticamente l'ho pagato 350 euro circa ma garanzia proprio Samsung, ufficiale, Italia, nuovo quindi ma se voi state proprio alla ricerca del super risparmio magari potete seguire il canale Telegram che vi lascio qua sotto in descrizione dovete stare proprio lì alla finestra pronti appena c'è l'offerta a sfruttarla subito però dai non perdiamo troppo altro tempo vediamo cosa ci offre questo Galaxy A70 per un prezzo di circa 300-350 euro in base alle offerte del momento e partiamo dall'estetica e vi dico che farò per forza dei rimandi al video della A50 proprio alla A50 in questo video perché loro hanno comunque molte cose in comune una di queste è il form factor, un pochino l'estetica perché notate se gli assomigliano davvero davvero molto vi dico però che questo A70 l'ho trovato un pochino più solido non so se è il frame che mi dà un'impressione un pochino più di resistenza non abbiamo quella cromatura terribile della A50 insomma mi piace che si tiene abbastanza bene in mano seppur comunque sia abbastanza grande ma non è scivoloso mi restituisce una bella sensazione stringendolo proprio in mano insomma mi piace è comunque leggermente stondato abbiamo questo retro che vedete in questa colorazione prism white non so è davvero particolare mi piace i riflessi che ha e dal momento che abbiamo parlato di frame beh diamogli un'occhiata e notiamo che superiormente abbiamo il forellino soltanto per il microfono secondario quindi niente infrarossi a sinistra abbiamo il carrellino a 3 slot quindi seppur abbiamo questo A70 con 6 GB di RAM e 128 GB di storage manteniamo comunque la possibilità di espandere la memoria assieme alle due SIM tutto allo stesso tempo questa è una cosa che mi piace davvero molto inferiormente invece notiamo che abbiamo il jack quindi non perdiamo il jack abbiamo la Type-C e abbiamo va beh il microfono principale e lo speaker che è lo speaker mono speaker mono perché ok abbiamo una capsulina auricolare qui sopra al notch ma è una capsulina auricolare che funziona soltanto proprio come capsula auricolare quindi non ha la funzione di doppio speaker tramite le capsulina comunque vi dico che ascoltiamo abbastanza bene per esempio note vocali su telegram e simile ci facciamo anche ottime chiamate e proprio in tema di chiamate parliamo un attimo ecco ragazzi questa è una chiamata registrata in interna quindi l'ambiente è davvero poco poco rumoroso adesso ragazzi sono in esterna invece sto controvento sto camminando controvento c'è abbastanza rumore ambientale di fondo e voi non vedete il lato video in questo momento perché non mi sono ascoltato la Sony a casa quindi vabbè oggi ci accontentiamo soltanto della parte audio però vi faccio sentire con le note vocali e le registrazioni web questa è una nota vocale telegram quindi dovrebbe essere abbastanza compressa questa invece è una registrazione tramite l'applicazione stock samsung in standard quindi senza cose particolari vediamo come viene catturata in questa maniera la mia voce se è un pochino meno compressa vi stavo accennando il discorso 4G perché vi dico che questo A70 ci permette di sfruttare un 4G plus completissimo quindi non abbiamo alcun problema di sorta come avevamo visto per esempio sul Maze ecco agganciamo tutte le bande senza problemi abbiamo proprio un ottimo 4G possiamo sfruttare comunque entrambe le sim insomma mi è piaciuta davvero molto lato connettività super affidabile anche quando me lo sono portato dietro per l'inaugurazione del Mi Store al Campania in treno e in viaggio non ho avuto alcun problema di connettività super super approvato parlando invece di come sblocchiamo questo Galaxy A70 vi dico che abbiamo le stesse modalità di A50 quindi sblocco con l'impronta frontale e sblocco con il volto vi aggiungo però che rispetto all'A50 ho trovato le modalità di sblocco nettamente migliori guardate il volto è super super rapidissimo l'impronta anche è praticamente migliorata perché non abbiamo più quei micro lag strani non abbiamo proprio freeze mentre per esempio sblocchiamo il telefono che invece avevo riscontrato ogni tanto sull'A50 non ho avuto quel bug dell'A50 che praticamente ogni tanto mi si frizzava l'always on con sotto lo schermo sbloccato insomma l'ho trovato molto più ottimizzato è vero che è un discorso di ottimizzazione quindi anche l'A50 può essere migliorato con gli aggiornamenti sicuramente sarà migliorato anzi con gli aggiornamenti però ecco insomma qui è già tutto sistemato non ho avuto problemi sin dall'inizio e una volta sbloccato ci troviamo davanti questo display che non è niente male ok è bello grande se vi metto vicino per esempio il Meizu notate che c'è un pochino di differenza lui si sviluppa molto più in lungo però ci sta è un bel AMOLED si vede comunque abbastanza bene sotto al sole mi piace il fatto che i bordi alla fine siano abbastanza ottimizzati seppur i notch comunque abbiano dimensione abbastanza importante però comunque abbiamo le icone di notifica quindi vabbè ci passiamo sopra dai è davvero un bel display per la vita di tutti i giorni abbiamo comunque i DRM L1 sono sistematissimi quindi Netflix in HD senza problemi ma anche Prime Video in HD senza problemi mentre altri telefoni che ho con i DRM L1 comunque non riescono a sfruttare Prime Video in full HD con lui ci riusciamo senza alcun problema in realtà se dovessimo andare proprio a cercare il micro dettaglio e lo sapete che io sono sempre puntiglioso rompi scatole insomma se notate negli angoli in basso a destra e a sinistra dovete farci proprio l'occhio zoomare mille per con l'occhio ecco notate che c'è una leggera scalettatura del display è una cosa strana ok nella vita quotidiana ve ne scordate non ci farete mai caso però insomma è una imperfezioncina che c'è comunque fortunatamente però il digitalizzatore non ha quel problema che avevo riscontrato con l'A50 quindi anche ai lati inferiori funziona senza alcun problema quindi riesco a dare note vocali senza problemi insomma quel problema è stato risolto per fortuna e se quindi il display mi è piaciuto ma alla fine anche quello dell'A50 non era niente male passiamo al lato prestazioni perché qui abbiamo avuto un bel cambiamento rispetto all'A50 abbiamo infatti finalmente accantonato l'Exynos come CPU per passare a una CPU Snapdragon base 675 che quindi comporta anche una Drenos 612 abbiamo 6 GB di RAM DDR4 128 GB di storage di tipo UFS ma con file di sistema EXT4 e ragazzi il cambio dall'Exynos allo Snapdragon si sente in una maniera assurda se lo sapete questa cosa a me in realtà dà fastidio perché non riesco a capacitarmi come Samsung sviluppa una CPU per i suoi telefoni sviluppata proprio da Samsung per telefoni Samsung su interfaccia Samsung e tutto ciò non è ottimizzato ci metti uno Snapdragon e gira da paura cioè questo telefono gira davvero davvero bene non ho riscontrato quei micro lag che avevo con l'A50 ho notato proprio che nella vita quotidiana era piacevole utilizzare questo A70 non ho sentito la mancanza dei top di gamma ma ho usato questo A70 senza alcun problema seppur comunque non rimanga un capolavoro parliamo sempre di un 675 che quindi ha qualche limite comunque con giochi di ultima generazione seppur comunque supporti per esempio Fortnite rispetto per esempio a un Redmi Note 7 però insomma ogni tanto notiamo qualche piccolo limite di questo SOC un 712 del Mi 9 SE fa comunque qualcosina in più abbiamo un'esperienza ancora più tendente al top di gamma lui ha prestazioni da super medio gamma un medio gamma davvero super affidabile però non arriva ai livelli di un top di gamma l'interfaccia ovviamente è rimasta sempre la One UI che però comunque vi dicevo che gira meglio seppur comunque a me continua a non far impazzire ma quello è un gusto completamente personale non vedo questa grafica integrata molto bene con le applicazioni terze e andiamo avanti parlando di batteria ragazzi perché ok lui gira bene ma per quanto tempo possiamo farlo girare? in realtà per un tempo abbastanza prolungato perché abbiamo 4500 mAh che assieme al 685 fanno davvero un ottimo lavoro anche perché lui praticamente non scalda mai ok diventa magari ogni tanto un pochino warm un pochino tiepidino ma davvero parliamo di virgole anche grazie alle dimensioni lui comunque è abbastanza grande quindi riesce a dissipare molto bene le temperature e insomma ragazzi io me lo sono portato dietro vi dicevo quando sono sceso all'inaugurazione del Mi Store al Campania praticamente dalle 4 di mattina mi ha portato alle 2 di mattina del giorno dopo ok gli ho dovuto dare una piccola carica con un powerbank ma comunque senza powerbank era arrivato alle 18 con il 33% circa di autonomia rimasta con 33% di autonomia residua e prima di arrivare alle 18 avevo fatto praticamente 3 ore di treno dopo ho usato intensamente il telefono un sacco di utilizzo attivo abbiamo fatto delle dirette sui social davvero l'abbiamo stressato al massimo e lui mi ha portato tranquillamente comunque a quell'orario con un 33% con una piccola carica di powerbank sono arrivato proprio alle 2 vi dicevo senza alcun problema insomma la tua autonomia mi è piaciuta davvero molto ci riesco a fare una giornata senza alcun problema e anche i standby ragazzi non è vero che consuma se notate che il vostro galaxy consuma davvero molto i standby fate così entrate in posizione cliccate in migliora precisione e disattivate scansione wifi e bluetooth questa è una cosa che spesso viene sottovalutata ma praticamente dovete immaginare che con quelle impostazioni attive il vostro telefono anche in modalità aereo continua a fare una sorta di mappa virtuale di tutte le wifi e bluetooth delle zone circostanti lui prova a connettersi comunque per creare questa sorta di rete e questa è una cosa che sta su tutti i telefoni in base Google con le applicazioni Google è una cosa che spesso viene sottovalutata ma è il principale problema dei drain batteria su Android e di questo magari ve ne parlerò in un video completamente dedicato perché ecco non ne sento mai parlare eppure è davvero una grandissima noia quindi ecco magari ci faremo un video a parte e quando sono sceso dal campano ho sfruttato molto anche le cuffiettine bluetooth vabbè sto utilizzando le iPhone perché comunque questo Samsung ha un bluetooth 5.0 molto buono si riesce a sfruttare comunque il codec HC delle cuffiettine riusciamo a sfruttare il Dolby Atmos che è integrato nella Samsung One UI questa cosa mi piace davvero molto e vi parlo anche dello speaker dato che siamo in tema di audio perché comunque vi dicevo che è uno speaker mono ma alla fine si difende abbastanza bene non è wow però dai ci sta alla fine e sto lasciando come ultimo comparto la fotocamera ragazzi è già perché abbiamo un modulo a tre fotocamere come la 50 abbiamo una selfie camera frontale ma insomma non mi ha fatto impazzire questo comparto vi spiego in breve anche il perché ho notato che dal Galaxy M20 ad arrivare a questa 70 non abbiamo avuto un vero passo avanti state guardando proprio qualche esempio beh non sono scatti proprio ultra wow e ne ho fatti pochi perché mi è passata un pochino la voglia anche perché alla fine le foto erano così simili alla 50 che insomma se vi recuperate quel video vale più o meno lo stesso discorso sapete qual è il reale vantaggio di questa 70? il fatto che avendo una base Snapdragon possiamo sfruttare comunque la Google Camera ho provato qualche versioncina di installarla non ne ho trovato ancora una super completa per esempio ho qualche problemino ancora con la camera frontale ma e vi aggiorno ragazzi che potete scaricare questa versione qui che vi lascio sotto in descrizione e praticamente una volta installata la ritrovate qui ovviamente senza problemi la aprite e andate in altro impostazioni e allora qui potete andare in avanzate fix attivate buffer fix e dopodiché mettete viewfinder format in uv420888 facendo così andate a resettare allora chiudiamo un pochino di cose ok e dopodiché andiamo a riaprire la Google Camera in questo caso noteremo che lo scatto normale funziona ovviamente tenete sempre l'HDR su avanzato in modo che sia forzato funziona anche la modalità di ritratto e funzionano anche i selfie facciamo una prova vedete lo scatto viene salvato senza alcun problema fa l'elaborazione HDR e dopodiché ci restituisce due foto quindi alla fine funziona tutto proviamo anche la foto notturna eh no questa crasha eh sì questa ancora è una cosa da sistemare però ecco vedo la Google Camera come unica via di salvezza perché alla fine le foto ultra grandangolari sono molto distorte non hanno una grande qualità le foto standard spesso sono un pochino granulose si perde qualche dettaglio insomma non mi fanno impazzire i selfie sì sono buoni ma anche lì non abbiamo proprio una grandissima qualità abbiamo dei colori un pochino strani e anche i video non sono niente di che sono stabilizzati un pochino male e quindi alla fine questa 70 lato fotocamera videocamera non mi fa dire wow proprio per questo discorso che ok sale il prezzo ma la qualità non sale allo stesso livello del prezzo mi aspettavo qualcosina in più mi accontento di una qualità simile a Galaxy S8 eh ragazzi che più o meno è un telefono di due o tre generazioni fa ci poteva stare secondo me integrare quel livello di qualità in un meglio gamma attuale abbiamo fatto anche una diretta su YouTube e anche in quel caso avete notato che ok si poteva fare ma non era proprio ultra qualitativa però almeno c'è da dire che funziona benissimo l'integrazione di microfoni terzi ovvero vengono sempre riconosciuti in ogni applicazione terza questa è una cosa sicuramente da provare vi parlo anche di GPS perché non l'ho fatto è ottimo l'ho utilizzato sempre in movimento quando sono stato un pochino in giro io utilizzo molto il GPS e mi è piaciuto davvero molto aggancia molti satelliti super approvato e quindi ragazzi alla fine questa 70 mi è piaciuto sì assolutamente mi è piaciuto anche più della 50 perché l'ho trovato un pochino più quadrato diciamo così e quindi ve lo consiglio sì soprattutto se trovate un'ottima un'ottima offerta non è un best buy perché comunque la concorrenza è super agguerrita ragazzi su questa fascia media quindi ci sono molti molti rivali altrettanto validi però ragazzi tenetelo d'occhio perché quando capita qualche super offerta è da non fartela scappare perché comunque finalmente abbiamo un medio gamma davvero completo tosto mi è piaciuto ci vediamo con il prossimo video ragazzi ciao ciao ciao